Se Bob Marley arrivasse con uno dei suoi cd, tutti così, cosa accadrebbe? Sì, direbbero bro, dai, dai, peso. Vieni tutto per fare un tiktok. Gli dicono Bob, Bob, sediti, vieni tutto Bob. Cioè con questa roba qua, devi mettere la roba per fare tiktok. E Bob è lì tipo, ma io non faccio tiktok. No, lì... Assurdo. È vero. Mamma mia. E tu immaginati un Tupac anche. Capito?